Situata in vetta a uno sperone di roccia, ecco la fortezza dei raricofoli. La rocca è visitabile accedendo attraverso cunicoli sotterranei. L'ingresso a pagamento 4 euro. All'interno un museo storico distribuito su tre piani. Continuando l'ascesa si arriva alla terrazza dei Merli. E' questo il punto più alto di tutta la Val d'Orcia, mille metri. La vista è unica. Grazie a tutti.